Proseguono i lavori di restauro di Ponteburiano, la cui riapertura era slittata alla fine di ottobre. Una chiusura che sta chiaramente facendo registrare dei malumori sia da parte degli automobilisti, soprattutto dopo l'inizio delle scuole, sia da parte delle aziende del territorio penalizzate dalla viabilità alternativa. Un cantiere che nel corso dei lavori ha visto emergere dei contrattempi inattesi che hanno richiesto una modifica alla tabella di marcia. E anche nelle ultime settimane sarebbero emersi altri imprevisti. Al momento resta comunque valida la previsione di riaprire il ponte entro fine mese, anche se la priorità, come ci dicono dalla provincia, è la sicurezza del ponte e dunque, nel caso sia necessario, potrebbe essere deciso di allungare di qualche giorno il cantiere e la conseguente chiusura del ponte. Certamente non a lungo perché il possibile maltempo ed il livello dell'Arno potrebbero diventare variabili molto importanti e dunque c'è comunque l'esigenza di riaprire il ponte quanto prima ma nella massima sicurezza.